Grande successo a Milano per la due giorni di jazz in Sarpi che si conclude fra poco. L'iniziativa giunta alla seconda edizione ha riproposto anche quest'anno una rassegna ricca di concerti e jam session facendo di via Paolo Sarpi, cuore della cosiddetta Chinatown milanese, un laboratorio artistico. Quattro i palchi dislocati lungo la via sui quali si sono esibite 16 band formate da artisti di fama nel mondo jazzistico. Negozi, boutique bar e ristoranti sono rimasti aperti per l'occasione anche oggi. L'evento con la direzione artistica di Camilla Battaglia è stato organizzato dall'associazione Sarpi Doc con l'unione del commercio milanese.